Un territorio devastato, quello marchigiano, ma Biper ha deciso di dare supporto e soprattutto un aiuto fondamentale al territorio e alla popolazione. Assolutamente sì, quello che è accaduto nella regione Marche è veramente un evento distruttivo. Questi due giorni sono stati giorni in cui abbiamo visto veramente gente soffrire, il territorio devastato dall'ennesimo evento straordinario, un'alluvione pazzesca che ha portato via case, ha distrutto famiglie, ci sono state perdite umane e devo dire che insomma essere sul posto ti fa capire veramente la durezza di questo evento. Biperbanca, molto presente sul territorio marchigiano, ha da subito attivato iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese per far sì che si attenui, si allevi un po' questo momento così delicato e triste. La nostra sarà un'attenzione, sarà un ascolto veramente molto ampio della nostra popolazione e sicuramente ci saranno ulteriori iniziative oltre ai nostri finanziamenti ad hoc, agevolati, che possano permettere alla gente del nostro territorio marchigiano di ripartire. Devo dire che questi territori hanno subito oggi, anche in passato, momenti così tristi. Nello stesso tempo mi viene voglia di evidenziare la resilienza di queste persone, la voglia di ripartire la capacità e la forza. Noi saremo al loro fianco con tutto ciò che è necessario per sostenerli e per farsi insomma che questa pagina brutta passi presto e che si riprenda il territorio, si riprendano le famiglie, si riprendano le aziende, si riprenda una vita normale.